A maggio è partito bene, stiamo lavorando principalmente però sull'Italia e sull'Europa per soggiorni mare e soggiorni culturali in Europa. Quindi lavoriamo su un 10% della potenzialità dei viaggi del mondo, perché ancora sussistono i blocchi su tutto l'estero. La gente sta iniziando a comprendere che fare un viaggio in agenzia di viaggi non è più oneroso di farlo in internet e sta iniziando a capire che la sicurezza sul viaggio è la cosa fondamentale. Oggigiorno, purtroppo e per fortuna, ci sono varie procedure da fare per poter viaggiare, soprattutto all'estero, in Europa, e bisogna farle bene, altrimenti le compagnie aeree non imbarcano. E quindi, onde evitare poi di arrivare in aeroporto e di vedere sfumare la vacanza, sicuramente la persona si affida a chi di competenza, si affida ad un pacchetto turistico che garantisce comunque una sicurezza sul viaggio. I pesaresi, i fanesi, i pesaresi, comunque la provincia ha voglia di viaggiare, la voglia di viaggiare c'è sempre ed è ancora più forte adesso che siamo stati chiusi, fermi a casa. Sicuramente la voglia di esplorare di nuovo l'Italia, l'Europa, c'è sicuramente. Veramente aspettiamo che chi di dovere ci apra anche delle mete che sono assolutamente senza alcun rischio. Penso alle Maldive, penso a Zanzibar, penso a Mauritius, a Seychelles, isole veramente covid-free che non hanno nessun rischio per i viaggiatori e per il rientro e per altro, ma che ancora purtroppo sono soggette a quarantena di ritorno. Parliamo anche dello stato di salute economico delle agenzie di viaggio. Attualmente qual è la situazione? La situazione ancora non è per niente erosa, anzi il momento difficile verrà adesso perché chi è rimasto in piedi, chi è ancora attivo, adesso dovrà riaffrontare la ripartenza, quindi dovrà reintegrare il personale, i dipendenti. Stiamo aspettando perché anche noi ancora non abbiamo reintegrato i dipendenti, perché voglio avere la certezza che le persone partano, perché noi guadagniamo quando le persone partono. Quindi ancora, essendo i primi di giugno, le partenze sono state poche e abbiamo già avuto partenze sulla Grecia e sulla Spagna, quindi siamo ottimisti. Sì, però per altri almeno due mesi, fino a che non vediamo le grosse partenze di agosto, la situazione non è così chiara e certa. In più vogliamo veramente credere che da agosto in poi, massimo settembre, si possa ripartire sul lungoraggio perché quello è il vero motore per un'agenzia viaggi. Il lungoraggio dove comunque possiamo sviluppare itinerari di viaggio più concreti.